Montecchio Maggiore, tragedia sfiorata, la candela votiva va a fuoco e madre e figlio finiscono in ospedale. Tutto succede in una casa di via San Francesco al piano terra dove abita la pensionata di 95 anni col figlio disabile di 69 anni. Quando la signora si accorge del fumo proveniente dalla veranda, allerta il figlio, insieme cercano una via di fuga trovandola. Intanto i vicini chiamano i vigili del fuoco che arrivano in pochi minuti. Secondo la ricostruzione la fiamma della candela bruciando la plastica si sarebbe propagata al mobiletto dove c'era un altarino e poi al resto della veranda. Un principio di incendio che avrebbe potuto invadere tutta la casa se i pompieri arrivati da Arzignano non fossero riusciti a domare subito le fiamme. Madre e figlio che hanno inalato il fumo sono stati controllati dai medici e dagli infermieri del suo M118. Per precauzione sono stati portati in ospedale ad Arzignano per accertamenti ma sani e salvi.